Siamo in compagnia di Federico Paolo, rappresentante e portavoce di Ricomincio dagli studenti. Benvenuto, buongiorno. Grazie, grazie per l'invito e buongiorno a tutti e a tutti. Allora, che idea vi siete fatti circa le polemiche che hanno investito in queste ultime due settimane Roma 3? Allora, diciamo che per quanto riguarda queste polemiche che sono uscite, sicuramente non siamo contenti di tutta questa campagna mediatica che appunto si sta presentando e che sta attaccando l'immagine dell'Ateneo. Sicuramente noi ci dissociamo da questa polemica, ci dissociamo perché riteniamo, e questo lo diciamo in base ai dati e a quello che vediamo. Viviamo l'università tutti i giorni, quindi è chiaro che non siamo assolutamente su questa linea, quindi ci dissociamo completamente e anzi siamo proprio contenti del lavoro che è stato messo in campo in questi anni di amministrazione e ci auguriamo appunto che questo lavoro possa proseguire in futuro. Il clima all'interno dell'università è quello che viene descritto sulla stampa, veleni, contrapposizioni esasperate, gestione verticistica e personalistica. Qual è la l'etica negli organi nei quali vi sedete? Sicuramente noi sediamo in organi principali dell'Ateneo, quindi come appunto dicevo prima stiamo parlando di temi importanti, temi che appunto riguarderanno il futuro di tutti quanti le studentesse e gli studenti che saranno iscritti al nostro Ateneo. Quindi è chiaro che c'è bisogno di un'analisi più approfondita, più accurata, ma è chiaro che trattando di questi temi è necessaria una riflessione, quindi ogni pensiero è utile e ci possono essere delle contrapposizioni, possono esserci dei dibattiti, ma questo è sano e deve esserci. In un processo democratico penso che questi dibattiti siano sani affinché possano poi portare dei risultati, quindi è chiaro che ci sono delle diatribe, ma poi l'importante è che si arrivi sempre a una soluzione unitaria per un unico interesse, cioè quello di fare sempre meglio, di tutelare e difendere gli studenti. Ieri il decano di Roma 3 ha dato avvio alla fase elettorale per la nomina del nuovo rettore. In quanto rappresentante portavoce di Ricomincio dagli studenti, cosa ti auspichi? Allora, noi ragazzi di Ricomincio dagli studenti, come nostro augurio e nostro auspicio, è quello che il futuro rettore o rettrice sicuramente possa continuare e possa intraprendere un continuo dialogo con gli studenti, che possa comprendere quali sono le problematiche e le difficoltà di noi studenti e che ci possa venire incontro. Grazie Paolo Federico, Ricomincio dagli studenti. Grazie a voi.